Il risorio mi ha fatto sorpresa, ma non farmi... Sì, l'organo sta andando un po' a ramengo, quindi sì... Eh sì, purtroppo già stessi che hanno giocato in due... Ecco, c'è uno nella tenda... Nel due... Ma... non c'è anche la merita di un cazzo... Eh, mi hanno ucciso, se ne due... Questo è la venta di un cazzo, non c'è ne due... ...con la barca... No... C'è un po' di un cazzo dentro la tenda, se lo so... Sono entrambi su un misurato... Eh sì, sì... Tanto affondiamo di là... Eh no, lontano... Ma andaci non andare lontano, allora... Anzi... Un po' reggi affettaccio che l'ordano vada a schiandarsi qualche parte... ...quando gli studiamo... ...quando più fatica a tornare... Posso rispararmi anch'io? Sì, Tony, ti parto! Ci sarebbe anche una merita di attività... I miei scheletri ne hanno ucciso uno... Eh, hanno ucciso anche l'altro! Grandi scheletri! Ecco, vedi... Questo dovrebbe essere da C-20... Questo è bellissimo! Quindi Paul può tornare per vendere? Sì, sì... L'isola è pulita... I miei scheletri sono tranquilli... Anche se dovete tenere d'occhio... Sì, sì... La loro nave al momento sta andando a est... Via, la loro nave...